Iniziamo questo primo evento legato al cinquantesimo di Istria Nobilissima. Io oggi sono qui in realtà in una duplice veste, nella prima parte molto istituzionale, nella seconda di autori invece, quindi mi faranno anche partecipare non per volontà mia ma per scelta della curatrice Eliana Moscarda Mirkovic, che ringrazio per aver accettato di guidare uno di questi sette eventi, considerato che il concorso d'arte di cultura Istria Nobilissima compie quest'anno 50 anni di attività, di vita, dalla sua fondazione, abbiamo voluto sostanzialmente cercare di celebrare il cinquantesimo nel modo migliore. Quale modo migliore se non organizzare sette eventi distinti per ciascuna delle principali sette categorie, in cui decine, centinaia di connazionali giovani e meno giovani in 50 anni si sono cimentati nelle varie arti che rendono bella la nostra vita e il nostro mondo. E mi fa piacere che si incominciamo proprio a Rovigno, qui al centro multimediale, e incominciamo proprio con la categoria giovani. La giunta esecutiva ha nominato sette donne curatrici per ognuno dei sette temi che verranno poi trattati, quindi giovani la professora Eliana Moscarda Mirkovic, poi c'è la categoria giornalismo che si terrà domani a Capodistria, arti visive il 28 a Fiume, musica a Dignano il 29, letteratura a Pola il primo dicembre, arte cinematografica, video e televisione a Valle, teatro, chiuderà il teatro il 15 dicembre a Umago. Allora, mi fa piacere che il primo di questi incontri sia dedicato, dicevo, ai giovani e alla scrittura. Ora mi consentirete di leggere un brevissimo testo che ho cercato di scrivere tra ieri sera, questa notte e questa mattina. Ma non vi è scrittura senza lettura, quella di chi si immerge con il naso fin dentro le pagine del libro, tra i versi e dai significati reconditi e plurimi, i segni invisibili e le sfumature, fino a sentire l'odore, cogliere i suoni, assaporare il gusto delle narrazioni. La vita è anche narrazione. Trasposizione e proiezione della nostra esistenza, fatta di emozioni che costruiscono quindi i nostri sentimenti. Qual è significato oggi la scrittura nell'epoca dell'uomo consumatore inconsapevole, travolto dall'indotta sindrome consumistica, dalla bulimia del denaro, dalla società frantumata, dalla fine della postmodernità e della postdemocrazia, della società liquida, dove tutto è mobile, incerto, temporaneo? E' il tempo degli hashtag in serie che precedono parole alla rifusa, delle emozioni espresse non più verbalmente o scritte, ma con standardizzati emoi. E' il tempo della comunicazione rapide, di Twitter, delle istantanee di vita commentate di Instagram, delle comunicazioni a tempo di Snapchat, degli stati di WhatsApp, delle cerchie di amici o conoscenti di Viber, dei messaggi privati, stereofonici di Messenger, delle YouTubers con i loro video che veicolano annunci pubblicitari, dei selfie da postare su Facebook. E' il tempo degli SMS veloci, prodotto di un pensiero interrotto, discontinuo, perché in costante interazione su più reti e social paralleli. E' il tempo dello stare assieme senza parlarsi, scrivendo e comunicando, con il mondo intero, lontano, distante e distratto, scordando di abbracciare l'amico, l'amica, che abbiamo al nostro fianco, comunicando dal vivo le nostre emozioni, quelle che danno colore e calore alle nostre esistenze. Anche la scrittura diventa liquida. La scrittura però è riflessione, capacità di analisi, di introspezione, organizzazione del pensiero, strutturazione del linguaggio e creatività e talento, trasposizione delle proprie emozioni in narrazione e esercizio e fatica, e ricerca e consapevolezza delle proprie capacità. La scrittura rende liberi, è un'esplosione di gioia e vita, e non importa se si diventa un poeta grande come Montale, un drammaturgo travolgente come Dario Faux, uno scrittore straordinario come Pirandello, non importa vinciate il premio Nobel. E' importante, ragazze e cari ragazzi, care ragazze, è importante scrivere, 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 e per scrivere bene è importante leggere, leggere, leggere. La scrittura vi aiuterà a crescere. Sarà un balsamo per le fasi più importanti della vostra crescita. Produrrà, comunque vada, poesia, che renderà belle le vostre giornate e quelle di chi le leggerà. Sboccerà un sorriso, o scenderà una lacrima, sul viso di chi amate, leggendo i vostri versi e i vostri racconti. Il rossore delle guance e l'abbraccio spontaneo comunicherà con intensità la sincerità delle vostre emozioni, l'integrità dei vostri sentimenti. Abbiate saldi principi. Ispiri, letti che le vostre agire, riempite di valori la vostra esistenza, è unica. Scrivere aiuta ad essere delle persone migliori. Aiuta a raggiungere la felicità. Ha in fondo la chi ci circonda, quella a cui anegliamo. E una volta raggiunta la felicità, sfugge, sempre, per ricomparire all'improvviso, magari con un verso che donate, come una rosa al vostro amore. Ieri l'altro, al Circolo Italiano di Cultura di Fiume, ha avuto luogo una cerimonia nel corso della quale sono stati consegnati i premi del concorso di Arte e Cultura Istria Nobilissima 1967, organizzato in collaborazione tra l'Unione degli Italiani dell'Istria di Fiume e l'Università Popolare di Trieste. Alla cerimonia sono intervenuti i membri delle presidenze, degli enti organizzatori, i componenti le varie giurie, autorità locali, il console generale d'Italia a Capodistria, dottor Mario Alessi, e naturalmente i sette artisti premiati, Alessandro Damiani per un'opera teatrale, Claudio Gussi per la pittura, Giacomo Scotti per il servizio giornalistico, Antonio Pellitzer per il canovaccio sceneggiatura per le scuole, Celeste Srelz per la composizione corale, Mario Schiavato per il romanzo breve ed Eligio Giannini per la poesia. I premi erano unici e indivisibili ed ammontanti ciascuno a 300.000 lire da usufruire per soggiorni e viaggi di istruzione in Italia. Nel suo indirizzo di saluto ai convenuti, il presidente dell'Unione degli Italiani dell'Istria di Fiume, professor Antonio Borme, ha rilevato, tra l'altro. Io credo che questi premi abbiano concorso in questa loro prima edizione al conseguimento di quelle che sono le nostre finalità generali. Infatti, ogni gruppo nazionale è in un certo senso soggetto a complessi di inferiorità di cui si può liberare unicamente con intensità di iniziative, con un concreto impegno sul piano sociale e culturale e con una visione prospettica fatta di fiducia e di ottimismo. Perciò mi sento in dovere di esprimere il mio vivo compiacimento a tutti coloro che hanno aderito a questa nostra prima iniziativa, benché assillati dalle remore comprensibili di un pubblico collaudo delle proprie capacità creative ed hanno con la propria azione dato al gruppo etnico italiano opere dignitose per il soddisfacimento delle sue aspirazioni, delle sue esigenze spirituali. grazie a tutti 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 abbiamo abbiamo grazie a tutti 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 grazie grazie a tutti 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 i primi grazie a tutti 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 grazie a tutti